Incontro ufficiale in comune con Davide Ciaccia, il nuovo proprietario del Teramo Calcio, che ha rilevato da Franco Iachini la maggioranza delle quote societarie. Ricevuto dal sindaco Gianguido D'Alberto, Ciaccia non solo promette investimenti al fine di potenziare la squadra bianco-rossa, ma rilancia anche sul vecchio stadio comunale. L'intenzione sarebbe quella di recuperare l'impianto sportivo per destinarlo al settore giovanile del Teramo. Il sindaco D'Alberto ascolta la proposta, ma precisa con convinzione che l'ex stadio conserverà la sua identità sportiva senza alcun fine commerciale. La destinazione sportiva ludico-ricreativa è prevista anche da piano regolatore e anche il progetto del Bando delle Periferie comunque prevedeva una conservazione della destinazione sportivo-ricreativa, un discorso un po' più ampio. Quindi quella è la destinazione naturale. Ora, non farei fuga in avanti su ulteriori percorsi, insomma, sentiamo la nuova proprietà, sentiamo la città, perché è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci. In realtà ho già avviato le interlocuzioni con la comunità terramana. Dobbiamo assolutamente rapportarci per la scelta della riqualificazione di quell'area con tutta la comunità, perché è un'area particolarmente sensibile. E sapete quanto me, se non meglio di me, cosa è successo in passato in merito all'intervento su quell'area. Ciò a dimostrare che si tratta veramente di una zona fondamentale, ecco perché dobbiamo affrontare il tema con responsabilità, serietà, ma senza perdere troppo tempo, perché dobbiamo assolutamente arrivare al momento della decisione, intanto perché non è degno lo stato di quell'area e poi perché le risorse a disposizione ci sono ora, le opportunità possono esserci ora e quindi dobbiamo saperele cogliere. Durante l'incontro istituzionale, Davide Ciaccia, supportato dal suo staff tecnico, sul recupero del vecchio stadio, suggerisce un project financing. Il sindaco d'Alberto non si sbilancia, ma ricorda che i vincoli esistenti sulla struttura e il volere dei cittadini prevarranno su tutto.